Tre segni zoolicali stanno per fare un pacco di soldi, ci sono tre segni zoolicali che grazie a un transito molto favorevole di pianeti stanno per fare un pacco di soldi, stanno per fare soldi appalate e soprattutto grazie al pianeta Giove e al pianeta Nettuno che sono in posizione favorevole e stiamo parlando del segno zoolical dell'acquario, per gli amici dell'acquario è giunto il momento di avere tanta tanta fortuna nelle relazioni diciamo finanziarie, cioè la finanza sta entrando prepontentemente e poi abbiamo il segno zoolicale dei gemelli, anche per gli amici dei gemelli è giunto il momento di fare business, soldi tanti tanti soldi che porteranno insomma anche un po' di gioia e per finire tanta gioia anche per il segno zoolicale dello scorpione, anche pressione dello scorpione, tanta tanta fortuna nei soldi, metti un like con l'abbonamento base segui tutti i miei seminari, ciao a tutti